L'arrivo di Martuscello nel Sannio alla guida di Forza Italia, come da noi anticipato nella giornata di ieri. L'europarlamentare affiancherà Domenico Mauro. La confusione comunque regna sovrana. Martuscello arriva su indicazioni romane e napoletane, con l'incarico di arginare le velleità di parte del partito che insieme a Mastella veleggia verso l'alleanza elettorale con De Luca. Martuscello arriva per frenare l'emorragia, ma l'azione dovrà essere condotta con assoluta delicatezza, senza esacerbare il clima politico già in fibrillazione. Mauro resta in attesa di comprendere quali potranno essere le mosse della federazione regionale, nella quale gode della stima di Cesaro, e dovrà valutare se questo affiancamento potrà essere assorbito politicamente oppure no. Resta il fatto, e non è cosa da poco, che è ora nelle condizioni di scegliere. La volontà dei falchi contrari all'accordo Mastella-De Luca era quello di eliminarlo senza condizioni. Vorrà confrontarsi con il suo zoccolo duro, formato da amministratori e militanti, che nei due anni da commissario è riuscito in un clima fortemente avverso ad avvicinare al partito. Partito che non vuole rompere con Mastella, e Mastella non vuole troncare del tutto i contatti col partito per le ragioni di Realpolitik di cui abbiamo largamente parlato. Ragione per la quale, al tempo stesso, il partito non può però restare inerme ad assistere al continuo slittamento verso De Luca di chi si sente solidale con Mastella, col rischio di sfasciare definitivamente Forza Italia. E' qualora l'esperienza di Martiuscello che vorrebbe riaggregare anche chi è da tempo lontano dal partito. Un nome che torna alla mente, per esempio, è quello di Vinoizzo, ma le possibilità che l'ex parlamentare airolano possa tornare sulla scena sono davvero poche. Chi invece guarda con gran simpatia la venuta di Martiuscello è senza dubbio Gigi Scarinzi, amico e referente sul territorio, cosa che innervosisce non poco il gruppo consigliare. E qui il discorso inevitabilmente investe la corsa per le candidature, che, da qualsivoglia parte si guardi questa intricata vicenda, rappresenta il vero punto centrale di ogni manovra politica. Mastella con De Luca ha di certo affrontato il discorso del do ut des, assessorati ma anche in carichi di enti, come è nelle sue corde, con relative promesse urbi e torbi. Ma non è l'unico a farlo, e nel clima di liquidità in cui si muove la politica oggi, cambiare orientamento è cosa di assoluta normalità. Napoli val bene una messa.